Professor Giuseppe Sommario, un progetto nell'anno del turismo delle radici che mette insieme 18 comuni della Calabria, progetto per rilanciare il territorio? Assolutamente sì, fondamentale fare rete per raccontare un territorio che vince la fermentarietà dei piccoli comuni e dà più forza alla presentazione di una regione che è stata fortemente colpita dall'emigrazione e questo progetto ha nuovi radicamenti, ha una doppia direzione, intanto quello di aggregare quanto più comuni possibile per presentare un nuovo volto della Calabria e poi per presentarsi con più forza alle comunità doppie che sono le comunità che vivono all'estero, che vivono fortissimo questo sentimento di ritornanza, come ho detto, che non è un semplice ritornare a casa, è un vivere nel mondo, ovunque sia, orientati continuamente con questo sentimento di voglia di ritornare a casa, di fare un nuovo modo, di ricreare un nuovo modo di essere comunità, a di qua, al di là dell'oceano.